Spazio Gra è un progetto che agisce sul territorio di Quartogiaro ma ha delle ricadute in realtà su tutta la città di Milano. L'obiettivo principale del progetto è quello di riuscire a sperimentare delle forme di welfare condiviso come bene comune. Questo è un elemento fondamentale per la realizzazione non solo di attività di socialità e di aggregazione ma anche per la realizzazione di veri e propri servizi sociali. L'assunto che sta dietro lo sperimentare welfare come bene comune è quello che la comunità entri a far parte della realizzazione dei servizi e delle attività stessi. Non solo che la comunità e il singolo cittadino siano quindi non solo consapevoli ma anche corresponsabili di quello che accade all'interno della loro stessa comunità. Un altro assunto fondamentale del progetto è quello di riuscire a spostare parte della programmazione, della progettazione sul territorio, proprio all'interno delle comunità. Questo per rilevare meglio i risultati e quindi per progettare le azioni più coerenti con quello che avviene sul medesimo territorio.